Grazie a tutti, dopo il referendum di questo luogo, nel januario il Sindicato Topa ha avuto una petizione di parte del Trado, che si tratta nel Departamento Nautica, che si tratta di parte dell'APA, che si tratta di un sindicato topa, che si tratta di un sindicato topa, e che si tratta di un quadro di maniera con il risultato del referendum di questo luogo, nel januario. Se si tratta di un sindicato, che si tratta di un sindicato topa, che si tratta di un sindicato topa, in un'azione non mi piace di dire il Trado di APA, ma se si tratta del nostro stesso luogo, per un dipartamento specifico in un'APA, se possiamo rifergermi a Riva 6, o Riva 6 parte qui si tratta di un'Awe, che si tratta di un'opera di un sindicato topa, un dipartamento Nautico specificamente, e che se tratta di un referendum di un dipartamento di questo luogo. Il risultato del referendum in januari è che il sindicato non è solo a partecipare, ma il risultato è che il sindicato non è sufficiente di sostegno di tutti i tradoni di APA, quindi il sindicato che è già che il sindicato che ha già esistito e che il sindicato non è solo a partecipare, ma il sindicato non è solo a partecipare, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, che ha già esistito, ma per esempio, non è solo a partecipare, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, che ha già esistito, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, se c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, come per esempio, c'è un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, da un sindicato che ha già esistito, ma per esempio, di una forma effettiva. Mi chiede che è tutto iniziato con il dialogo di parte di gerenza di una compagnia che mi potrebbe rappresentare il strato nel piatto di lavoro. Perciò che avisa che due sindicati di una compagnia non potrebbero rappresentare il lavoro, se ha un buon compagno di gerenza che il sindicato non potrebbe rappresentare il lavoro. Non c'è una app, sempre c'è un sindicato, ma mi chiede che è la decisione che si può fare due strato per avere due sindicati di una compagnia. Quindi se ci sono le questioni che si può fare nel momento di una compagnia. In total, se non scopre il Departamento Nautica, ci sono 24 strato per partecipare a una compagnia nel referendum, il quale non si può fare. Non si può fare un referendum per evitare il 23 e 24 in total.